splende l'ora solare buongiorno e ben trovati siete pronti a casa siete siete pronti siete seduti come a teatro siete pronti a sentire qui in questo studio una persona straordinaria un attore straordinario e allora giampiero ingrazia come se fossero bacioni come se fossero abbracci veri abbraccioni bacioni con questo signore delle scene e signore anche nella vita lui è tutto conduttore televisivo cantante attore metti nome dove lo metti sta bene benissimo ritrovarti lo posso dire che bello ritrova bello sempre bellissima sempre poeta no no è vero e poi sei una grande conduttrice se può dire non è che ci sia non è tanto figurare glielo devo dire perché basta così adoro questo ragazzo va bene poi racconteremo anche dietro le quinte sapete che cosa succede quando nella vita beh insomma il tuo cognome è importantissimo ma tu il cognome l'hai fatto fruttare l'hai reso stupendo ancor di più il tuo cognome e questa è una cosa che ti va a totale titolo quando fai per la prima volta a teatro il principe cherubino dico bene ma dai qual è stato il tuo primo ruolo voglio sapere come fai a sapere il principe cherubino ma qui allora solari sappiamo tutto allora il principe cherubino sì diciamo che è stato il mio debutto ma ero piccolissimo anni ma io avevo dieci anni forse meno nove anni ed era un era uno spettacolo che facevamo all'elementare mi hanno chiesto di fare il protagonista il principe cherubino e io mi ricordo con questi foglietti a casa che studiavo la memoria terrorizzato non era un copione proprio foglietti scritti a mano che stavo lì e mi ricordo una cosa che il la mia maggiore preoccupazione era una palla di gomma dorata che avevo dovevo entrare con questa palla così ed ero terrorizzato perché ogni volta mi cadeva allora più che la memoria che sapevo probabilmente non già mi abituavo per il futuro era il fatto di far rimbalzare questa palla che finiva fuori il giorno della replica perché fu una replica andò benissimo andò benissimo non c'erano dubbi però non avete notato la sottigliezza il ruolo del protagonista gli avevano dato ma come te sbaglio io ero il principe cherubino ma fin dall'inizio allora questo ragazzo non non pensava di poter fare l'attore l'ha capito ad un certo punto le ipotesi erano due o fare batman proprio batman quello o fare il palombaro già spiegami perché mi sono un po persa su allora naturalmente queste queste scelte erano scelte dettate da due passioni ma ero piccolo naturalmente non a vent'anni ecco allora uno è il batman perché io sono sempre stato un grande appassionato di fumetti e quindi in quel periodo leggevo batman superman ancora la marvel non esisteva cioè in italia non esisteva e quindi per me batman era il massimo proprio che bello il palombaro e poi io non so nuotare quindi immagina non sono un pessimo non sono proprio a galla cesto malissimo nuotare ancora ancora peggio il palombaro perché vedi un film che era 20 mila leghi sotto i mari no mi sembra che fosse con kirk douglas tratto dal romanzo di giurio verne e impazzire questi che combattevano contro la piovra questi con questi scafandri enormi e lo ha detto no io devo fare il palombaro poi non ho fatto né batman né palombaro e per nostra fortuna il mondo dei palombari ha perso un grande palombaro batman poteva andare a casa perché sarebbe arrivato giampiero ingressia dopo un brillantissimo liceo questo brillantissimo ragazzo si iscrive a giurisprudenza e anche qua è così tenero quel momento in cui la rosolia tu dici ti sei pigliato la malattia a volte le malattie aiutano la rosolia colpisce questo giovanotto in un momento cruciale in un momento importante è vero è vero io stavo allora io ho fatto liceo classico non sapevo che cosa fare non era neanche previsto che io facessi l'attore non non mi ha quando mi mi domandavano ma tu vuoi fare l'attore dicevo no basta un attore in famiglia non mi piaceva questa frase e ci arriveremo e quindi mi iscrivo a giurisprudenza perché i miei amici si erano iscritti a giurisprudenza preparo storia del diritto romano un libro così lo preparo devo dare l'esame tipo a luglio i primi di luglio vado al mare con degli amici con la fidanzata e tutto quanto torno torniamo e la mattina dopo mi chiama un mio amico dice senti ma tu ce l'hai avuta la rosolia la rosolia è una malattia di bambini ma figurati se non ce l'ho ho 19 anni sicuro sì sì perché dice perché mio fratello piccolo si è beccato la rosolia me l'ha trasmessa noi ieri siamo andati tutti al mare vado da mia madre dico mamma io ho avuto tutte le malattie quelle infantili dice sì tutte tranne la rosolia dico ah ma il giorno dopo ero pieno di puntini rossi e io un po l'ho preso come un segno divino ecco nel senso tu giurisprudenza non la devi fare un segnale mi è convenuto pensare un segnale importante e quindi ho smesso e poi mi sono iscritto a una scuola e la è stato contento anche di questa rosolia chissà se l'avrà mai saputo ma penso di sì questo signore che ha voluto un bene immenso a giampiero ingressia non solo come persona ma come attore parliamo di gigi proietti e gli applausi arrivano laboratorio di esercitazioni sceniche tutti iscrivi alla scuola di questo meraviglioso uomo questo grande che per te sarà papà bis no si oltre al tuo meraviglioso è stato grande ma a casa tu l'hai detto che fossi avessi fatto tutto per vedo che sei molto informata tu sei stato preso in questa scuola io sono stato preso però presi quelli bravi ok probabilmente sì insomma penso di sì è una vita che facciamo sta scena io gli dico bravo e lui ma sì probabilmente andiamo e quindi no sì faccio vado a vedere gigi in uno spettacolo con un mio amico scendiamo nei camerini chiediamo sicuramente sappiamo che lei è una scuola ma per iscriversi come si fa allora lui molto gentilmente ci diede un indirizzo non esisteva non è non esisteva internet perché si parla dell'ottantadre quindi e ci diede questo foglietto grazie complimenti che bello bravo io telefono poi devo sempre fare l'audizione insomma mi hanno dato una data e poi come nei film questo mio amico è partito a fare il militare quindi non ha potuto fare il l'esame io lo feci non dicendo nulla a mio padre perché primo ho detto se non mi prendo se non mi prendono evito una figura pessima con mio padre secondo detto non si sa mai mio padre chiama gigi e gli dice o mi raccomando sempre odiato le raccomandazioni e non ci sono mai state ringraziando il cielo e quindi non ho detto nulla ho fatto l'esame bisogna aspettare 20 giorni per il risultato insomma con gigi diceva saluta papà io dico sì sì certo e non lo salutavo naturalmente quando poi sono usciti i quadri ho visto è stato preso sono andato da papà io ho detto valla ti volevo dire un mese fa ho fatto l'esame mi hanno preso ti saluta gigi poi quando sono tornato al laboratorio ho detto gigi devo dire una cosa in realtà io non ti ho salutato insomma si sono sentiti col telefono quello al muro feco al gettone ne chiamai casa dico papà ti passo gigi proietti come stai bello tuo figlio bla 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 e così è nata giampiere grassi e questo giampiere grassi e questo e moltissimo altro perché tutto questo fa parte lo ripeto ancora una volta senza timore di smentita alcuna fa parte di una persona splendida e poi un grande attore conduttore televisivo cantante c'ha una voce e recita con papà in quale film tra poco all'ora solare parliamo del grandissimo ci c'è grazie grazie di essere con noi signori attore cantante conduttore televisivo meraviglioso papà uomo a tutto tondo giampiero ingressia nello studio dell'ora solare per te per te figlio d'arte si può proprio dire figlio d'arte sì perché a me piace come definizione al contrario di molte persone che non amano perché figlio d'arte vuol dire essere raccomandato secondo l'immaginario collettivo ma in realtà non è così capito il tuo papà al tuo papà noi dobbiamo a lui insieme a franco franchi noi dobbiamo così tanto dobbiamo tanto a due attori strepitosi dobbiamo tanto a tuo papà io ho chiesto e la chiedo subito alla mia alla mia regia per favore una foto che viene dal set di amarcord di federico fellini lo zio matto e lui è ingressia e una fotografia che vedremo dopo del gatto e volpe televisivo di comencini allora il tuo papà il tuo papà tra l'altro io ero sul set quel giorno dico sempre perché fu un'esperienza meravigliosa sai quando devi essere la persona al momento giusto nel posto giusto mio padre io devo andare a scuola mio padre mi disse perché non vieni che giro con fellini così te lo presento diceva fellini ero piccolo avevo 10 11 anni ma sì ma sì ma salto a scuola vado insomma siamo andati in questo set vicino roma bellissimo bravo e io mi ricordo come se fosse veramente ieri questa scena dell'albero l'albero che era un albero finto era scenografato io vedevo questa quercia enorme diciamo mamma mia poi sono andato dietro c'erano le scalette le cose tutto quanto e poi c'era la suora che in realtà era un uomo piccolino piccolino poi doppiato naturalmente nel film e poi mi ricordo la pausa mi ricordo questa scena sul calesse io ero dietro insieme a fellini e a tutti il direttore della fotografia eccetera eccetera e mi ricordo la pausa quindi eravamo a pranzo in questo casale io stavo con federico fellini mio padre pupella maggio e tutti gli altri attori e io percepivo ma veramente qualcosa di magico cioè io sentivo che quel momento me lo sarei ricordato per tutta la vita e tuttora vedi adesso ne stiamo parlando io ho queste immagini avevo fellini a destra parlava con la era aveva questa vocina lui allora ciccio e fu una giornata bellissima e grazie di avercela raccontata giampiero perché vedi questo è un ricordo tuo che adesso è diventato anche un ricordo nostro grazie di cuore questa questa coppia questa coppia alla quale si deve tantissimo del nostro buon umore della risata della risata piena la risata vera piena non volgari erano loro non volgari come sempre poi c'è parte della critica che capisce ma gli attori vivono per il loro pubblico ed è il pubblico che ti proclama vincitore certo e loro erano due vincitori amati tantissimo dal pubblico e quando si andava in giro negli anni 70 era una sorta di andare in giro con i beatles dico perché non riuscivamo mai che ne so andiamo a mangiare fuori con franco con la famiglia di franco ma non potevamo a non avevamo un attimo di adesso si dice di privacy un attimo di tranquillità non c'era perché era un un continuo avanti e indietro non esistevano i telefonini quindi niente selfie niente però autografi questo la dedica ma che bello posso posso un continuo allora una famiglia sul set e famiglia anche fuori perché questo sono stati i due no franchi ingrassia e allora potevamo non far arrivare questa cartolina questa cartolina al nostro giampiero ingrassia no non potevamo infatti eccola qua caro giampi sono contento di mandarti questo saluto anche se velocissimo noi in realtà ci sentiamo spesso abbiamo il nostro gruppo whatsapp franco e ciccio dove ci scambiamo notizie opinioni riflessioni sulla nostra amata coppia sui nostri genitori e abbiamo questo legame che ormai portiamo avanti da tantissimo tempo tu sai quanto io abbia stima di te sia come artista che come come persona e quindi mi fa molto piacere far parte della tua vita abbiamo anche la fortuna di aver avuto questi due genitori speciali che hanno fatto divertire veramente generazioni di bambini e di famiglie italiane per tanti anni e che ancora oggi sono amatissimi amore che poi viene riversato anche su di noi e questa penso sia una cosa veramente straordinaria e niente ti saluto ti do un grosso abbraccio e a presto grazie a massimo venenato massimo grandissimo scrittore si è venuto qui lo so lo so me lo ricordo è bravissimo è molto bravo poi vabbè insomma gli voglio un bene dell'anima perché insomma sia lui che 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 le tizia la sorella ci siamo visti nascere a vicenda ci siamo visti ti piace bellissimo quindi un grande legame un grande affetto ma il gruppo whatsapp franco e ciccio è notevole perché poi non sempre puoi essere così legato nella vita se sei una grande coppia sullo schermo invece voi avete fatto proprio famiglia grande nonostante magari delle incomprensioni loro sul lavoro che ci sono state noi ci siamo sempre voluti bene io a franco io volevo un bene dell'anima gliene voglio tuttora nonostante non ci sia più ma è dentro di me ma anche nelle cose che faccio anche io mi accorgo molte volte dico ma perché magari affronto un personaggio in un modo penso sempre a mio padre o a gigi però poi ti dico ma questa cosa mi ricordo a cavolo ma questa cosa la faceva franco l'ha fatta in quel film allora mi è venuto a spuntare perché io li assorbivo cioè per me loro erano mio padre e lo zio franco quindi era come se tu stai con degli amici no a casa in un salotto e discuti e chiacchiere si chiama talento perché tu il talento ce l'hai inequivocabilmente e e cultura voglia di conoscere no curiosità sì apprendi apprendi quella diventa la cultura è vero qualcosa che tu porti dentro di te entro su questo argomento su questa pagina della tua vita con tutto il rispetto che si deve ad una persona a cui io voglio molto bene e che si deve sempre tu hai dovuto imparare improvvisamente a diventare papà e mamma per la vostra rebecca certo certo e l'hai fatto con una grazia incredibile giampiero anche anche nel tuo racconto nei confronti di una normale curiosità seppur votata all'enorme dolore per la morte di tua moglie per come era avvenuto come sei riuscito a fare tutto guarda io ci sono riuscito inconsapevolmente nel senso che se a me un giorno mi avessero detto ti succederà questo questo e questo mi sarei messo le mani nei capelli avrei detto io non ce la farò mai ma d'altronde come quando se ti prendono e ti buttano in mezzo all'oceano e ti dicono beh adesso vai verso la terraferma e tu dici ma come faccio ci sei e lo devi fare per cioè per continuare a vivere lo devi fare in questo caso c'era soprattutto rebecca per me a cui dovevo pensare perché un po il dolore proprio uno solo impara a gestirselo no se ti viene da piangere se ti viene da urlare lo fai per conto tuo anche con pudore ma se pensi al dolore di un figlio che perde un genitore quanti anni aveva rebecca quando è successo rebecca aveva dieci anni è successo nove anni fa rebecca ha fatto adesso 19 anni all'improvviso all'improvviso un infarto io stavo pensa io stavo a napoli a fare frankenstein junior era appena arrivato a napoli mentre mia moglie mentre barbara con rebecca erano a roccaraso per la settimana bianca mi arriva una telefonata non capivo di chi è questo numero rispondo non rispondo poi veramente da farci un film rispondo e mi dicono mi danno questa notizia tremenda io per penso per un minuto non ho capito più nulla sono rimasto a presente l'immagine dei film quando vedi la tua immagine che viene di fronte alla macchina presa tutto si sfoca dietro ecco è successo questo e poi insomma è nutre che ti dico quindi vai a napoli nascondilo a mia figlia glielo dico il giorno dopo perché non mandava di dirglielo con il buio ho sempre associato la notte no con una cosa quindi tutta la notte sono stato svegliissimo il giorno dopo poi glielo ho dovuto dire cioè mi ricordo questa cosa questa vetrata enorme sulla neve e glielo ho dovuto dire quindi è stata una delle cose più difficili che ho fatto soprattutto perché c'era lei e quindi da lì in poi io ho chiuso nel senso detto chiamato la produzione sono stati deliziosi ho detto io non posso continuare la tournée sostituitemi io adesso devo stare accanto a mia figlia ma a parte questo io ho rivoluzionato completamente la mia vita perché ero uno che non sapeva cucinare io comunque da attore mi alzavo tardi a scuola l'accompagnava barbara magari ogni tanto l'andavo a riprendere le becca ma stando sempre in tournée erano cose no era una sicurezza che io avevo ci pensa ci pensa mia moglie da lì in poi ho dovuto fare tutto qui ma non ho voluto aiuto da nessuno nel senso che ho detto o mi prendo la responsabilità di tutto perché delegarla alle nonne non mi sembrava una cosa giusta per le becca infatti il nostro rapporto si è consolidato in una maniera straordinaria e ho fatto di tutto sono riuscito a fare di tutto ma tuttora quando io faccio teatro a roma mi alzo la mattina per accompagnare la scuola poi magari torno mi butto sul letto distrutto però lo faccio l'ho fatto per dieci anni per nove anni scusami le tournée organizzati vai andava a dormire da mia suocera quando io non c'ero insomma ci siamo riusciti a organizzare e io ho cambiato totalmente sono diventato un cuoco pazzesco quando vuoi ti invito a cena e cucino io e però è una cosa penso che sia servita non lo so anche una lezione di vita non te lo so dire però eccoci qui rebecca ha fatto 19 anni io la 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 da lontano adesso perché adesso no papà che fai mi baci davanti agli altri no che mi lasciami lì come fanno tu come facevo anch'io all'epoca e però insomma ci sono sempre in maniera molto leggera però ci sono avete capito perché poco fa io abbia parlato di una persona meravigliosa oltre a tutti gli applausi oltre a tutto il teatro proietti film teatro la preparazione papà tutto tu sei una persona meravigliosa hai appena detto cose che non usciranno più dal nostro cuore della semplicità e la grandezza con la quale mi dico possiamo anche proseguire perché è così allora questo certo che ci vengo a mangiare una persona che sa ma uno che sa poi gli uomini quando imparano a cucinare sono molto più bravi di noi donne perché ti parla una che insomma forse perché non sono abituati e improvvisamente non lo so generosità vuole allora giampiero in grassia che oltre a tutto il resto ama la musica la mamma la mamma era una meravigliosa pianista non ti ho ancora chiesto cosa dissero papà e mamma dell'inizio della tua carriera sapete che faccio respiriamo per un attimo glielo chiedo dopo questa piccolissima pausa che però vi riporta qui a teatro davanti a giampiero in grassia arriviamo tra un minuto quella meraviglia di giampiero in grassia ospite allora ci credo poi ci devi credere ci devi credere allora nel 2006 questo ragazzo diventa uno dei soci e creatori della fonderia delle delle arti di roma scuola di musica teatro cinema fotografia nonché direttore della sezione teatro e musical a te gris di john travolta ti ha sempre fatto un baffo e io questa cosa l'ho trovata meravigliosa è gelosissimo john di questi paragoni può esserlo ma può esserlo guardati qui mamma mia quando ero giovane con l'orella fare gris è passati 25 anni ridendo e scherzando ridendo scherzando ballando e saltando però certo queste cose tu le sai fare le sai diciamo che prima le facevo con più energia adesso il musical il musical che è quella cosa difficilissima dove si canta e si balla il fiato dove lo prendi ma guarda per un piccolo come me è un po un miracolo no è come il fatto del palombaro senza saper suonare però insomma il mio primo musical fu proprio fu la piccola buttega degli orrori con la regia di saverio marconi e ti parlo di 33 anni fa è stato il mio primo musical e il primo musical della compagnia dell'arancia io cantavo mi piaceva cantare cantavo rock un mio amico mi disse guarda che cercano il protagonista per la bottega che io avevo visto al cinema con rick moranis e ho detto ma ci provo andai insomma e di là è iniziato tutto e mettete un asterisco sulla piccola bottega degli orrori la piccola bottega degli orrori allora da oggi fino al 27 di febbraio la piccola bottega degli orrori 33 anni dopo la prima anni dopo ovviamente tu insomma la conosci a menadito quanto è bello stare sul palco bellissimo sentire le risate gli applausi dopo questo periodo terribile che abbiamo vissuto e speriamo di non viverlo più è stato emozionante ritornare risentire gli applausi è inutile che io dica andate a teatro perché un posto sicuro perché noi per lavorare dobbiamo farci parte siamo tutti vaccinati dobbiamo farci il tampone ogni 48 ore per la sicurezza nostra e la sicurezza del pubblico il pubblico viene gradi nonostante abbia la mascherina ma purtroppo per adesso serve non si può fare altrimenti però è bellissimo per noi e anche per il pubblico perché vediamo che c'è proprio voglia di tornare a teatro siamo al teatro brancaccio di roma al teatro brancaccio di roma ripeto dal 22 al 27 febbraio spettacoli a scena aperta per la piccola bottega degli orrori c'è giampiero ingressia attorniato da tantissimi cari colleghi ma in realtà voi state facendo un giro d'italia noi siamo in tournée noi siamo in tournée praticamente da capodanno finiremo ad aprile a milano al nazionale insieme a me naturalmente fabio canino belia martin questa è una fotografia di scena è uno spettacolo da non perdere non voglio perdermi però neanche quella domanda che ti volevo fare fin dall'inizio allora gigi proietti salutami papà dice al giovane giampiero ingressia parlando di ciccio ingressia e lui non glielo saluta perché vuoi portare la notizia di essere stato preso che cosa hanno detto papà e mamma quando tu hai comunicato un inizio che per nostra fortuna sta continuando anche per mia fortuna no beh sono stati al mio padre è stato contento naturalmente loro volevano che io mi facessi frequentassi l'università per laurearmi perché loro non l'avano potuto fare e quindi però insomma mi sembrava un po sciocco prenderli in giro io glielo ho detto mio padre mi disse a dice beh ricordati che è un mestiere molto difficile devi fare molta gavetta però sono contento che tu che tu lo faccia mia madre la stessa cosa piccinino la classica mamma siciliana che bello che bello che bello l'unica cosa che loro non videro il mio primo spettacolo perché arrivarono non riuscirono proprio a uscire da casa perché era era maggio o giugno del 1983 l'ultima replica i miei dovevano venire ci fu la roma vinse lo scudetto e per la città ci fu l'inferno giallo rosso e loro mi chiamarono a teatro e guarda che non riusciamo a venire perché sotto casa c'è un macello non si può e quindi si sono persi il primo spettacolo il secondo no no il secondo nostro giampiero ingrassia con un grande 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 grazie perché da quel secondo in poi anzi fino anche dal primo lui è la stessa persona con i piedi ben piantati per terra un immenso cuore e un talento questo sì che cresce giorno dopo giorno grazie 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 di essere stato con noi allora abbiamo detto una stella non l'ho detto a silo detto nel lancio della puntata noi oggi abbiamo avuto in studio una stella vogliamo parlarvi anche della luna in che modo in un modo molto molto ma chi lo immaginava molto particolare guardate un po'